Abbiamo un terzo premio che non vi dico chi l'ha ricevuto, perché vediamo dopo, ma c'è anche un secondo premio, Angela Maria Fibetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi questo libro è dedicato anche a lei e a Radina perché siamo parte della campagna. Grazie. Grazie a tutti.